Le accuse sono di abuso d'ufficio e abuso adilizio. A processo il sindaco di Craveggia Paolo Giovanola, difeso dagli avvocati Giorgio Legnazzi e Carla Zucco con l'allora segretario comunale Dario Cerizza, difeso dall'avvocato Alberto Zanetta, il direttore dei lavori Fabio Melfa, difeso dall'avvocato Domenico Capristo, l'impresario Edile e Simone Costantini che li realizzò e il committente e proprietario Franco Vincenzo Fiorese, entrambi con l'avvocato Andrea Ambiveri. La vicenda riguarda i lavori di edificazione e ristrutturazione che nel 2015 interessarono l'immobile Fiorese che si trova nella zona della pista del fondo. Ieri si è tenuta a verbagna l'udienza preliminare del processo con gli atti preliminari. Il giudice Donatella Banci Bonamici, più e presiede il collegio, ha rinviato l'udienza il prossimo 20 novembre per l'ascolto dei testimoni e dei consulenti tecnici nominati dal PM Gianluca Periani e dalle difese. Il sindaco Giovanola preferisce non rilasciare dichiarazioni in questa fase iniziale. Sono tranquillo, spiega, attendo con fiducia l'evoluzione del processo.